Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre ed eccoci qua con un nuovo video dedicato ai comandi della terminale cercherò di fare un video veloce ma comunque chiaro sui permessi su un sistema operativo GNU Linux permessi di file e directory i comandi che vedremo in realtà sono semplicemente solo due chmod per cambiare permessi e chon per cambiare il proprietario o il gruppo di file e directory allora, cominciamo mostrandovi il contenuto della directory su cui mi trovo con ls abbiamo un file1, file2, file3 e poi una directory test1 ls ci mostra soltanto i nomi noi abbiamo bisogno di vedere, di visualizzare i permessi quindi più informazioni come visualizziamo più informazioni? con il long format andiamo quindi con ls-l per long format vedete, adesso abbiamo il nome del file a destra file1, file2, file3 e la directory test1 al centro abbiamo dapprima il proprietario del file quindi il proprietario del file1 è anonymous e poi abbiamo il gruppo il gruppo è anche anonymous va bene a sinistra invece abbiamo una serie di rwx, rwx, rwx questo l'ho fatto in questo modo appositamente per questo video se avete dei file se andate a controllare i vostri file la situazione potrebbe essere diversa comunque l'ho fatto per mostrarvi che ci sono tre terzine la prima terzina rwx la seconda terzina rwx la terza terzina rwx e per ora ignoriamo il fatto che il tutto comincia con un trattino oppure con una d come vedete qua va bene la prima terzina è per il proprietario del file per anonymous la seconda terzina rwx è per il gruppo la terza terzina rwx è per tutti gli altri presenti sul sistema va bene r sta per permesso di lettura quindi questa r significa che il proprietario ha il permesso di lettura può andare a leggere il file 1 w sta per permesso di scrittura quindi significa che il proprietario può andare a scrivere il file 1 può modificarlo insomma x sta per permesso di esecuzione quindi vuol dire che il proprietario può andare ad eseguire il file 1 immaginate che sia uno script un programma benissimo ora anche il gruppo come vedete ha la r quindi il permesso di lettura la w quindi il permesso di scrittura la x quindi il permesso di esecuzione la stessa cosa vale per tutti gli altri anche loro hanno il permesso di lettura il permesso di scrittura e il permesso di esecuzione benissimo spero di essere stato chiaro adesso vediamo come cambiare i permessi con chmod posso farlo in quanto io sono anonymous quindi il proprietario è chiaro che il proprietario può andare a cambiare i permessi vado con chmod poi u sta per il proprietario u sarebbe user ed è il proprietario del file quindi cambiamo al proprietario un qualche permesso siccome i permessi ci sono tutti andiamo a togliere un permesso come si toglie un permesso con meno con meno togliamo con più aggiungiamo quindi chmod u meno facciamo r file 1 quindi sul file 1 stiamo togliendo al proprietario il permesso di lettura ricontrolliamo con ls meno l come vedete è scomparsa la r quindi il proprietario non può più leggere il file 1 può scriverlo paradossalmente può eseguirlo ma non può leggerlo per il gruppo e per tutti gli altri invece non è cambiato nulla perché abbiamo fatto un chmod u e qualcosa ok vi faccio vedere che se faccio un cut di file 1 permesso negato perché non ho proprio il permesso di lettura sul file 1 perfetto facciamo adesso un chmod questa volta sul file 2 chmod u ve l'ho fatto vedere user il proprietario adesso facciamo g g sta per gruppo quindi al gruppo togliamo questa volta il permesso di scrittura chmod g-x file 2 ricontrolliamo i permessi come vedete è scomparsa la w per il gruppo il gruppo adesso può leggere il file può eseguirlo ma non può modificarlo facciamo ad esempio nano ah non sono il gruppo va bene l'ultima cosa che vi faccio vedere chmod questa volta o o sta per authors tutti gli altri o meno x quindi sto togliendo a tutti gli altri il permesso di esecuzione sul file 3 ricontrolliamo è scomparsa l'ultima x sul file 3 quindi sono rimasti tutti gli altri permessi ma gli altri non possono più eseguire questo file è possibile combinare quanto abbiamo visto in questo modo ad esempio u g e quindi cambiamo i permessi al proprietario e al gruppo ad esempio faccio ug-x quindi sto togliendo il permesso di esecuzione al proprietario e al gruppo sul file 1 ricontrolliamo ecco è scomparsa la x qua per il proprietario scusate non riesco ok e scomparsa la x per il gruppo altri modi per combinare più cambiamenti di permessi su un unico comando chmod sono ad esempio u e facciamo un più r poi facciamo virgola g e facciamo un meno w sul file 1 e in questo modo sto dando al proprietario il permesso di lettura e sto togliendo al gruppo il permesso di scrittura ecco qua va bene penso che abbiate già capito consideriamo adesso questa d altrove avevamo semplicemente un trattino qua abbiamo la d il trattino ce l'abbiamo quando non è una directory quando è un file quando è una directory abbiamo la d quindi per capire se si tratta di una directory basta guardare qua a sinistra se c'è la d è una directory benissimo ora il problema è che sulle directory la r la w e la x stanno a significare qualcosa di leggermente diverso cosa significa per me su lettura su una directory che posso visualizzare il contenuto della directory quindi il proprietario può visualizzare il gruppo può visualizzare tutti gli altri possono visualizzare sono il proprietario faccio un ls della directory e come vedete sto visualizzando il contenuto sto vedendo cosa c'è all'interno essendo che ho anche il permesso di scrittura posso fare altro cosa significa permesso di scrittura posso cambiare il contenuto di una directory cosa significa cambiare il contenuto di una directory posso creare all'interno un file chiamerò file 5 ok lo controlliamo all'interno della directory e c'è adesso il file 5 posso rimuoverlo quel file ecco l'ho rimosso se non avessi avuto il permesso di scrittura non avrei potuto creare un file oppure rimuoverlo cosa invece il permesso di esecuzione il permesso di esecuzione ci permette semplicemente di fare un cd di spostarci su quella directory ok adesso facciamo una cosa tolgo tutti i permessi quindi faccio semplicemente un permettetemi di farlo 0 0 0 sulla directory test 1 ricontrolliamo i permessi ok è rimasta solo la d per sapere che si tratta di una directory ma sono scomparsi tutti i permessi ora guardate voglio visualizzare il contenuto della cartella test 1 no permesso negato non posso guardare cosa c'è all'interno perché non ho il permesso di lettura sulla directory adesso mettiamo che voglio creare il file 5 all'interno della directory no permesso negato perché non ho il permesso di scrittura su questa directory facciamo un cd su questa directory no permesso negato perché non ho la x perché non ho il permesso di esecuzione su questa directory ok quello che non vi ho mostrato è che chmod si può usare con i numeri con le cifre in realtà l'ho fatto qua 0 0 0 sono tre cifre la prima cifra è per il proprietario la seconda cifra è per il gruppo la terza cifra è per tutti gli altri quindi a posto di usare quella sentassi che avevamo visto u più x u meno r usiamo tre cifre ma in che modo allora il permesso di esecuzione al posto di r adesso viene rappresentato da un 4 il permesso di scrittura al posto di w adesso viene rappresentato da un 2 il permesso di esecuzione adesso a posto di una x viene rappresentato con un 1 ve lo faccio vedere sul file 1 ok il file 1 ha il permesso di lettura anzi prima mettiamo risettiamo tutto a 0 quindi chmod 0 0 0 file 1 ricontrolliamo ecco non c'è alcun permesso sul file 1 ok adesso diciamo che voglio dare il permesso di lettura al proprietario abbiamo detto che il permesso di lettura è 4 quindi faccio 4 ma lo voglio dare solo al proprietario non voglio dare nulla al gruppo non voglio dare nulla a tutti gli altri quindi 4 0 0 file 1 controlliamo i permessi come vedete il proprietario ha il permesso di lettura e basta il gruppo non ha alcun permesso tutti gli altri non hanno alcun permesso adesso al posto di 4 0 0 proviamo con 2 0 0 vedete che adesso spunterà la W il permesso di scrittura per il proprietario per il gruppo e per tutti gli altri nessun permesso facciamo un'ultima prova con chmod 1 0 0 e adesso vedrete solamente la x per il proprietario i permessi di esecuzione va bene ovviamente si possono combinare i tre permessi per esempio lettura e scrittura fa 6 4 più 2 quindi 6 0 0 significa che adesso spunta permesso di lettura e permesso di scrittura se facciamo non so ad esempio 5 5 è 4 più 1 lettura più esecuzione guardate un po' ok ovviamente il totale di tutti i permessi è 7 4 più 2 più 1 quindi se faccio 7 0 0 adesso vedrò lettura scrittura ed esecuzione per il proprietario va bene ovviamente posso fare anche qualcosa del genere 7 7 7 e quindi sto dando tutti i permessi a tutti al proprietario al gruppo e a tutti gli altri va bene spero di essere stato sufficientemente chiaro adesso vediamo il comando ch on anche questo lo posso utilizzare essendo io il proprietario di file 1 vedremo di cambiare qualcosa il punto è che non so che utente mettergli facciamo una cosa cambiamo il proprietario lo andiamo a mettere a root lo farò con sudo permettetemi di fare questa cosa quindi sudo ch on root file 1 ovviamente devo mettere la password ok vediamo un po' cosa è successo come vedete qua il proprietario non è più anonymous ma è root abbiamo cambiato il proprietario e se volessimo cambiare il gruppo beh la sintesi è molto simile dobbiamo semplicemente aggiungere due punti prima del gruppo che vogliamo inserire quindi sudo ch on due punti root ricontrolliamo ecco adesso abbiamo root e root facciamo la stessa cosa per il file 2 ma questa volta combiniamo il proprietario e il gruppo in un unico comando quindi faccio sudo ch on root due punti root file 2 e come vedete adesso il proprietario root e il gruppo e anche root va bene abbiamo già finito spero che sia stato veloce ma allo stesso tempo chiaro se qualcosa non fosse chiaro potete chiedere nei commenti anche se io comunque non è che sono il massimo esperto mondiale niente noi ci vediamo alla prossima ciao da Plarintux